Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore ed ex politico italiano. È considerato uno dei volti più noti di Mediaset, insieme a Paolo Bonolis e Maria De Filippi, ed è considerato lo zio più famoso d'Italia, con il soprannome Zio Gerry. Scotti si alza quasi subito dalla propria poltrona incitando il concorrente, e, non appena fai la termina la performance, il giurato non esita a volerlo nella propria scuderia di talenti strambi e spesso incompresi, anche il diamante più bello, più prezioso del mondo. Quando è stato tirato fuori dalla terra era grezzo. Ci sono alcuni talenti che saltano all'occhio, e altri che bisogna capire, e io so che questa gente ha capito. Donne, è arrivato il talento. È a questo punto che il cameriere ballerino si lascia andare all'emozione, come fa notare Maria De Filippi. Ti interrompo solo per dirti che il tuo talento si è commosso. Si è messo a piangere dopo il tuo abbraccio. Inaspettatamente pure Gerry non riesce a trattenere le lacrime. Una reazione che lascia di sasso i suoi colleghi. Luciana Littizzetto chiede, ma fa finta. Mentre De Filippi osserva. Anche il manager ha un cuore. Sabrina Ferilli cerca di saperne di più. Ma qui ci è sfuggito tutto di mano cao. Ma perché ti sei commosso così? Non lo posso raccontare replica lui tra le lacrime. È Maria De Filippi a riportare un clima di festa in studio. Proponendo di ballare nuovamente tutti insieme Italo Disco. Al termine del numero improvvisato Scotti si rivolge ancora al concorrente. Ho visto la tua commozione. Mi sono commosso. Te lo devo dire ancora una volta perché questa è l'Italia che ci piace.